Mi dai i palloni che vuoi buscate? E' un po' di sbattito. Ti do un po' di soldi. Così puoi andare a leggere il tuo figlio. Invece di piccolare. Qualche sono? Io ti bussarei una barra. Invece di quelle marci. Questo è il padre. I miei quadri non sono marci. I miei quadri... I miei quadri sono tutti con della terra buona. Sono puliti. Se tu non hai nessun diritto direi che i miei quadri sono marci. Tu non c'è. Cosa? Non lo faccio io quando tutto. Tu hai avrestato male. E per questo mi hanno riuscito a dormire. Io penso che sia un ragazzo padrone. Hai il diritto. Hai il diritto. Tu non hai nessun 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 diritto. Buongiorno. ora lo so lo so lo so lo so ora lo so no che va giustito io ho detto ma io quello che ho detto quella tua sorella ci penserà lei se sembra sì quella tua sorella lei c'è bene tu no lo so vuol dire tu hai detto in questa casa io la vedo non vedo non vedo vedo però diciamo allora scusate per te solo per te tu non ti tratti come una merda no che cosa ti ha detto al saputo che ti avevo offerto di vari gusti qualcosa per farmi capire che è lei che è lei tre un altro un altro un altro che ho pensato che ti ha detto come era tu no tu hai detto se hai dubbio ce la lasci Certo, potrei dirmi che andassi, è quello che di cui dico, già, potrei dirmi che andassi, con tutta la proprietaria scorrì, e ci dico, e, 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 potrebbe essere un asso della dovervenita, no? E da dove vedi che mi sembra secondo te? E tu, forti, mi senti, parti pronto, mi conti, invece, scambola così di cosa e mi vado a cominciare con questa cosa. E quello che vuoi mostrare? Sì, sì, mi va, di quello mi va, ecco tu, investi dall'ortenza, tu sei un arredatore dei figli. Cosa? Come cosa? Un arredatore? Un arredatore di casa? No, io non ho mai fatto. Non ho mai fatto. Potrei imparare. Ma non mi tenete che ti imparare. Ti voglio un arredatore di prima professionalità, io pensavo che tu lo eri. No, tu stai tagliando un uomo. Io ho parlato con te. Con te ho parlato dei miei progetti e le mie aspirazioni e le mie profondi aspirazioni. Io sono un'altore, io pensavo che tu eri un arredatore eccezionale. Un arredatore cline. Cosa ti sa di vedere? Hai detto una cosa per C? No, c'è la mia persona. Un varietà di noi non aveva un po' già roma, non aveva un arredatore. E riprende le stesse cose. E non neanche lo so ga facile. Io ne avevo un tanto per C? Con te nel truco, io ne sei tu intuizzeri. E lui! Mi manca, gli amici facile. ma dove è che? per me? chiude! devo vedere che sono completamente spaziale si tu sei un medico come? qual è tu? ah? qual è il tuo vero amore? del patente e con quale non mi hai ucciso? me ne andiamo a metti sì due luci figuriamoci la testa ma perché? sono fatto che tu sei una predatura e poi e poi che lei è il vostro spiace si non vede tu sei un tipo strazza davvero strazza da quando hai messo piedi in questa casa non ci sono stati altri non ci siamo mai dentro a sé due luci e ogni parola che dici può dire mille altre cose e più del mondo sono male tu sei un tuo vero come un già assolutamente imprevedibile perché? sei un selvaggio come ancora un cavernito per dirla a tuo tuo figlio e tu buzzi buzzi abbiamo dei piedi fino alla cima dei capelli vieni qui ti presenti come arredatore e io anche per quanto posso che cosa succede? tu mi fai una lunga di sistera sulle tue referenze e lì alla città dei confine e più alto sul cielo io io non voglio lavorare alla città dei confine per prenderle e perché? e perché piove oh quando voglio piove 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 who sta e themi qui piove mamma solo i tutti ghi piove vi non mi importa niente non mi importa a riprocessare le impianzioni non mi importa a ringardirmi in tutti i spazi io ho questo movimento questo movimento io ho questo movimento non mi importa in questa casa non mi importa non mi importa niente io ho messo a passare per lei io ho lei io ho messo a passare in questa casa portatemi che non mi importa nulla lei quando non to folla il fine da velo tutto tutto stella Grazie. 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 Sono ritornato per intenderla. Ho fatto un po' di strade e sono accorto che non l'avevo ritornato. Sono ritornato. Senti. Non dicevi cosa succede. Tu... Che sei a me. E' da te. Non hai mai fatto domani. Voglio dire. Conoce tutti i sani. Per quello che cosa hai dato. E' da te. Allora. Se ci scambiamo niente. Dovrò una di due. Tutto il mio. Tutto torna con prima. No? Credici. Non ho visto da qui. Ma ora non ho visto da qui. Non ho visto da qui. Ma ora non ho visto da qui. 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 E poi... E' da qui che mi ha detto. E' da qui. E' da qui. Comunque adesso non lo tengo. Non ce ne hai trovato. Non lo faccio. Non posso iniziare a fare più. Ti darò una mani. Ma ora non sarei così. No. Che dici? Non posso fare più sensibili. Senti. Io direi che... Passi solo una parola. Una sola. Una parola più fonda per te. No. E' da qui. No. Io. Ma Cristo. Che vuol dire? Che mi salva a certo fondo. Non puoi farlo. No. 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 Vabbè. Se tu vuoi dire. Ti non devo andare a fare. Ti non devo andare a fare. Ti non devo andare a fare. Con le scarpe. Con le scarpe che ti hai dato. Se tu vuoi dire. Eeeh. Sei. per quanto? come è? si fa? si fa l'ora si fa l'ora appunto la del tempo e viene calda per perteneci 10 anni ci passiamo 40 anni questo prima di andare qui o che erano vecchi e vecchi non esplicitavano pensavano che capisse cosa diceva che io parlavo parlavo questo è stato il libro e infatti per lo stesso si parlava 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 mi parlava di cose se non ci lavoravano io parlavo lo stesso cose e io non mi ascoltavo mi ascoltavo quando avevo conosciuto il libro il libro io avevo come delle amici non era una lucidazione delle proprie perché mi sembrava delle cose rompiche non